randy ma dove stiamo andando sei proprio sicuro che il salto nel libro magico sia stato una buona idea bella è stata una fantastica idea non vedi che magiche avventure stiamo vivendo persino il giro nel mare sull'ancora sì sì saranno pure magiche ma io ho paura finiamo sempre nei guai ma dove siamo capitati della cerchiamo di capire a te cosa sembra questa sembra una nave che bella non ero mai stata su una nave tu randy della è un caleone ma guarda lì guarda ma cos'è quella bandiera che strano della quella è la bandiera di una nave di pirati sai cos'è il vascello pirata non ha motore è il vento a spingerlo guarda quante vele ci sono le navi pirata sono piccole e veloci per poter bombardare le navi nemiche a colpi di cannone meravigliosa hai detto cannone ma dove mi hai portato lo so benissimo cos'è un cannone le navi dei pirati hanno i cannoni e sono nascosti nella fiancata della nave guarda l'albero maestro maestoso rendi certo e i cannoni vengono usati dai pirati per attaccare le altre navi e rubare i loro tesori per poi nasconderli su isole segrete che meraviglia vorrei essere un pirata e scrivere una mappa del tesoro ma cosa dici vuoi diventare il pirata barba nera tu al massimo puoi essere un barba gianni simpatica della lo sai che loro l'argento dei galeoni sono il bottino preferito dei pirati della lo senti questo tintinio sono gli scudi le monete rubate dai pirati durante le loro scorribande e vengono conservati nei forzieri della ma hai capito chi sono i pirati rendi sa bene chi sono i pirati ci sono il corsaro il bucaniere il filibustiere sulle navi dei pirati c'è anche la vedetta che scruta l'orizzonte per avvistare le navi cacciatore di pirati e scogli pericolosi e poi c'è il mozzo tu potresti essere un mozzo della io sono il capitano sono barba rossa o il cappello e la benda sull'occhio o il panciotto e l'uncino la gamba di legno e bassi il pappagallo sulla spalla non ti piace della tu non vorresti essere una piratessa potresti essere il timoniere così la nave affonda della lo sai che i pirati non bevono mai acqua ma solo room il room ecco cosa c'è in queste botti chi va là mani in alto rendi aiuto bella non urlare se ci trovano i pirati ci daranno impasto ai pesci ti ricordi lo squalo bianco vuoi rivederlo no 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 dopo dinosauri squali e pirati non so cos'altro aspettarmi dal libro magico pirati allora in maggio sono qui te l'avevo detto nascondiamoci voglio tornare in rendella